Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense, faremo il punto dell'emergenza coronavirus nel ferrarese ma anche in regione, poi parleremo di SPAL che oggi sarà in campo alle ore 18 contro la Fiorentina nell'ultima partita della Serie A di questi tre anni ma sentiremo anche le musiche del concerto di Morricone dedicato al genio di Morricone ieri sera in piazza Trento Trieste ma oggi ricorre l'anniversario, il quarantesimo anniversario della strage della stazione di Bologna e questa mattina nel capoluogo di regione si sono celebrate le commemorazioni di una delle pagine più oscure e tragiche della storia italiana in cui morirono 85 persone e oltre 200 persone rimasero ferite, presente diverse autorità tra cui la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e il Vice Ministro dell'Interno Vito Crimi e anche ovviamente il Sindaco di Bologna che vedete in questa immagine riaffermiamo il dovere della memoria, l'esigenza di piena verità e giustizia e la necessità di una instancabile opera di difesa dei principi di libertà e democrazia così ha scritto in mattinata il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che non ha partecipato alle funzioni ma è stato a Bologna pochi giorni fa ed è però anche l'Associazione delle Famiglie delle Vittime ha intervenuto in mattinata e ha detto che è sconvolgente il trattamento di favore di alcuni responsabili ricompensati lautamente per il loro servizio a dirlo è stato Paolo Bolognesi che è Presidente dell'Associazione delle Vittime della Stregi di Bologna che ha parlato così appunto dal palco di Piazza Maggiore ricordando gli omicidi commessi dagli ex terroristi dei NAR, Mambro e Fioravanti e ha parlato anche degli ergassoli a cui sono stati condannati non hanno mai collaborato e oggi sono pienamente liberi e spesso trattati come star ha detto il Presidente dell'Associazione delle Vittime ma su questa ricorrenza ci ritorneremo anche nelle prossime edizioni del telegiornale ma prima di andare avanti facciamo un aggiornamento sul coronavirus sull'emergenza che colpisce anche il ferrarese sono 4 nuovi casi positivi registrati nel territorio estense tutti residenti e tutti senza sintomi e in Emilia Romagna invece sono 56 in nuovi casi in più rispetto a venerdì di cui 37 sono asintomatici e come abbiamo già accennato sulle spiagge Emiliano Romagnole sta arrivando il camper della sanità pubblica per fare test sierologici e tamponi ai turisti sentiamo costerà 10 euro il test sierologico che i turisti in Emilia Romagna potranno fare da Cervia fino a Cattolica lì di comacchiesi esclusi andando nella clinica mobile e nell'unità mobile in distribuzione poi nel corso dell'estate un milione di mascherine e kit per igienizzare le mani lungo tutto il litorale lì di comacchiesi compresi questi progetti Riviera Sicura e kit unità di strada presentati sabato mattina a Cervia e realizzati dalla regione Emilia Romagna in collaborazione con le aziende sanitarie della Romagna e Ferrara e i comuni romagnoli il progetto Riviera Sicura il cui fulcro sarà la clinica mobile operativa per tutto il mese di agosto dove turisti e bagnanti potranno recarsi per effettuare il test di screening che evidenzia se si sono avuti contatti col coronavirus e in caso di risultato positivo potranno effettuare direttamente in sicurezza il tampone per sapere se hanno la malattia in corso alla clinica che avrà sede prima a Cervia dal 3 agosto poi a Rimini dal 17 agosto aperta dalle ore 9 alle 13 si affiancherà un camper che svolgerà lo stesso servizio spostandosi negli altri comuni della Riviera Romagnola ma non nel Comachiese l'altro progetto kit e unità di strada invece prevede la distribuzione di un milione di mascherine 700.000 kit per igienizzare le mani e cartoline contenenti le buone pratiche di prevenzione Covid che saranno distribuite in tutta la costa dai lì di Comachiesi fino a Cattolica a partire dalla settimana rosa e per tutto il mese di agosto per l'azienda USL di Ferrara gli operatori di strada saranno presenti sul litorale dei lì di Comachiesi concentrando la loro azione nel facilitare il distanziamento e promuovere l'uso della mascherina attraverso la distribuzione diretta distribuendo 300.000 kit e cartoline la loro presenza è segnalata dal camper del coordinamento regione dell'unità di strada e in particolare saranno presenti il 5 agosto a Porto Garibaldi in occasione dell'evento Timodà Live Cronaca adesso lite in un appartamento in via Bologna ieri ferito leggermente alla testa un giovane di origine Moldava coinvolti tre giovani tra cui il ferito tutti connazionali tra i 23 e i 27 anni il diverbio si sarebbe acceso per motivi futili e all'arrivo della polizia era già tutto finito ma gli agenti hanno accertato che il presunto aggressore si trovava in Italia irregolarmente e per questo è stato espulso è stata emessa un'ordinanza di espulsione però se ci spostiamo ai Lidi sono state frasi oltraggiose quelle espresse nei confronti dei carabinieri e per questo è stato arrestato ma poi rimesso in libertà dall'autorità giudiziaria il giovane protagonista dell'episodio della notte è avvenuto poco dopo l'una a Lido Nazioni durante un controllo da parte dei militari vicino a uno stabilimento balneare un 21enne nato in Gambia è stato così arrestato con l'accusa di violenza, minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale ma dobbiamo passare adesso allo sport perché oggi è il giorno di SPAL Fiorentina si gioca alle 18 su Telestense potrete seguire gli aggiornamenti e i commenti a partire dalle 17.30 ma facciamo il punto con Alessandro Sovrani sull'ultima partita della SPAL di questi tre anni in Serie A si chiude il campionato di Serie A torneo lunghissimo iniziato quasi un anno fa domani per il Paolo Massa ultimo atto con la SPAL che ospiterà la Fiorentina due squadre deluse i biancozzurri che daranno ci auguriamo la rivederci alla Serie A e la Fiorentina che ha fallito l'assalto, la conquista di un posto in Europa probabilmente i due tecnici daranno spazio a molte seconde linee in casa SPAL ci aspettiamo che Di Biagio si affidi a qualche giovane quale Iskra che è piaciuto molto nelle ultime uscite Orvat e il solito Tungiov poi c'è il discorso dei difidati Vicheri, Valdifiori e Di Francesco che potrebbero essere lasciati potenzialmente a riposo in considerazione del fatto che un ulteriore cartellino giallo farebbe scattare la squalifica che andrebbe scontata nella prossima stagione così come per quanto riguarda la Viola l'ex Spallino Igor ma in casa SPAL si guarda soprattutto al futuro che non potrà prescindere dalla scelta dell'allenatore è ormai noto che la SPAL punta Pierpaolo Marino ma attenzione perché il tecnico dell'Empoli ha guadagnato proprio con la formazione toscana vincendo 1-0 ieri sul campo del Livorno l'accesso ai play-off e se l'Empoli dovesse andare avanti negli spareggi per la promozione cosa potrebbe accadere visto che l'ultima gara è in programma il 20 agosto tre giorni dopo la data in cui la SPAL avrebbe fissato sarebbe intenzionata ad iniziare il ritiro in vista del prossimo campionato l'alternativa è costituita da Eugenio Corini che tecnicamente andrebbe perlomeno considerato alla pari dell'attuale allenatore dell'Empoli che diciamoci la verità in queste ultime stagioni non ha rispettato appieno le iniziative insomma si sfoglia ancora la Margherita in casa SPAL certo è così la pensiamo noi che se l'Empoli dovesse uscire nel primo turno quando affronterà il Chievo sarà coppia Pierpaolo Marino l'allenatore a cui Mattioli e la famiglia Colombarini si affideranno per tentare l'immediata risalita e qui inizia il discorso del mercato la SPAL a tanti giocatori in forza che non vorrebbe confermare dovrà in particolar modo azzeccare gli elementi che dovranno costituire la spina dorsale ovvero il portiere certamente Beriscia troverà collocazione al trove mentre Vicari potrebbe ancora essere il perno della difesa per quanto riguarda il regista la SPAL avrebbe in forza sia Viviani che Esposito ma pensiamo che l'ex Livornese non rientri nei piani della società biancozzura che però ha detto attenzione noi non abbiamo alcuna intenzione di contribuire eventualmente al pagamento degli emollumenti nel caso qualche giocatore dovesse essere ceduto la società che si dovesse far carico delle prestazioni dei nostri giocatori ha fatto capire la società si dovrà far carico poi anche del totale impegno finanziario per quanto riguarda i compensi e questo è un discorso che chiama in causa anche Paloschi che sembra comunque abbia già fatto capire alla società di non vedere di malgrado anzi di accettare volentieri un eventuale ritorno a Ferrara così si potrebbe comporre un tridente parliamo di tridente nel caso di Pierpaolo Marino che opta di norma per far scendere in campo le sue squadre con un 4-3 del quale potrebbero far parte oltre all'ex attaccante del Atalanta anche di Francesco ed Alessandro va verso la conferma Floccheri e dovrebbe restare a Ferrara anche strefessa poi ci saranno tante cessioni soprattutto quella di Fares con Fiorentina Lazio soprattutto Torino interessate al giocatore abbiamo detto di Beriscia e vedremo che ne sarà di Valotti e Murgia la Spal vedrebbe anche abbastanza di buon grado una loro conferma ma entrambi i giocatori vorrebbero avere la possibilità di restare ancora in Serie A insomma si aspettano giorni caldi ma piuttosto giorni importantissimi per le sorti del futuro bianco-azzurro come ha detto la società l'obiettivo è quello di tentare l'immediato ritorno in Serie A non sarà in presa facile noi diciamo che perlomeno dovremmo vedere costruita una squadra in grado di lottare per la parte alta della classifica diciamo perlomeno per i playoff e adesso parliamo del concerto che si è chiuso ieri sera con la due giorni di musica in piazza Trento Trieste a Ferrara nel contesto del Summer Festival che ha accolto 3200 persone secondo l'amministrazione comunale sarebbero state rispettate tutte le disposizioni anti-covid quindi dopo il concerto di NEC venerdì ieri è stata la volta dell'omaggio a Morricone il maestro premio Oscar recentemente scomparso e il 19 settembre è già prevista una nuova data di questo festival sul palco andrà Mario Biondi con un'orchestra di 8 musicisti ma sentiamo alcune tracce musicali indimenticabili del genio di Morricone eseguite ieri sera in piazza Trento Trieste di Morricone di Morricone e per l'anima di Morricone Passiamo adesso alla politica. Comacchio e Bondeno andranno al voto il 20 e 21 settembre prossimi nella cittadina Matildea. Ci sono già le prime candidature ufficiali. L'attuale sindaco facente funzioni di Bondeno ha presentato venerdì la sua candidatura diventato primo cittadino a febbraio scorso quando il sindaco dell'epoca Fabio Bergamini è entrato in consiglio regionale. Simone Saletti che lo vedete al centro di questa foto del partito della Lega sarà sostenuto dal centro-destra unito mentre il centro-sinistra invece ha ufficializzato sempre venerdì la discesa in campo alle comunali dell'ex segretario del partito democratico Tommaso Corradi. E quindi è così partita ufficialmente la corsa della campagna elettorale che porterà i bondonesi e anche i comacchiesi a scegliere il loro futuro sindaco i prossimi 20 e 21 settembre. Passiamo adesso all'ambiente. Durante il lockdown abbiamo parlato della qualità dell'aria che era migliorata con le persone in casa cioè meno traffico ma anche le fabbriche praticamente tutte ferme. Ma c'è una novità non proprio più positiva che sta caratterizzando questa estate. Dopo gli effetti benefici del lockdown la qualità dell'aria del bacino padano torna scarsa. In particolare in Emilia Romagna è critica la situazione a causa dello zona estivo con 15 stazioni di monitoraggio con valori oltre i limiti tollerati. A lanciare l'SOS è lega ambiente secondo la quale con l'ondata di calore la situazione potrebbe anche peggiorare. L'associazione rileva che dopo il calo della concentrazione degli ossidi di azoto durante il periodo di lockdown con la ripresa delle attività e degli spostamenti con mezzi privati tornano così a salire le concentrazioni di ozono. Pur essendo meno noto dell'inquinamento invernale da polveri sottili l'ozono rappresenta un inquinante altrettanto pericoloso di celega ambiente. Parliamo adesso della col diretti di Ferrara. L'attuale direttore Palù a breve andrà in pensione e a poco più di un anno dalla sua nomina il consiglio dell'associazione ha scelto Alessandro Visotti come nuovo direttore dal 1 settembre. Prossimo Visotti 58 anni attualmente direttore della federazione interprovinciale di Ascoli Fermo nel Marchigiano è romagnolo di Bagno di Romagna e da oltre 30 anni è in col diretti. Il presidente di col diretti Ferrara Tassinari ha ringraziato Palù per quanto fatto in questo periodo nella federazione ferrarese e ha dato il benvenuto in anticipo a Visotti. E sempre rimaniamo in ambito associativo, Conf Cooperative Emilia Romagna ieri venerdì mattina ha tenuto l'assemblea congressuale a Bologna e ha rieletto Francesco Mirza alla presidenza, presente anche Maurizio Gardini che è presidente nazionale di Conf Cooperative che hanno commentato così a caldo questa rinomina e anche la situazione in cui stanno operando le cooperative in questa fase difficile dell'emergenza Covid dal punto di vista soprattutto economico. Stiamo attraversando un momento difficile dove siamo ancora alle prese con l'emergenza sanitaria e con l'emergenza della ripartenza. È chiaro che questo coronavirus ci ha cambiato profondamente la vita, ci ha innestato nuove paure, nuove fragilità. Dobbiamo ripensare a un nuovo modello di sviluppo che ripartiene dalla sostenibilità, dall'innovazione e da una visione di Green New Deal. L'obiettivo che era l'obiettivo che alla cooperazione si era già data nel passato, da questo dobbiamo ripartire per pensare a ricostruire un paese, un nuovo patto sociale che imponga anche la necessità di condividere fra le organizzazioni di rappresentanza, i corpi intermedi e le organizzazioni sindacali. Sarà importantissimo, non può essere solo il pubblico, tantomeno il pubblico in qualità di gestore. Il pubblico dovrà condividere, dovrà dettare le linee, dovrà assumersi la responsabilità, dettare le regole, ma deve chiamare i corpi intermedi, le imprese a un'assunzione di responsabilità per costruire questa nuova pagina per il paese che metta il lavoro al centro e la coesione sociale. Sicuramente è un momento critico, ne abbiamo vissuti tante di difficoltà a partire dall'ultima crisi del 2008, ma certamente questa è per la modalità in cui si è espressa, diventa certamente un banco di prove importante non solo per il sistema paese, ma anche per noi che ne siamo attori protagonisti, anche per il movimento cooperativo. Lo abbiamo fatto nel momento importante in cui il Covid ha colpito, dando una risposta sui molti mondi considerati principali, dal tema dell'agroalimentare, al tema dei servizi socioassistenziali, sul socio sanitario con alcune imprese di servizio che operano negli ospedali. Quindi certamente una prima risposta di emergenza in cui la cooperativa ha dato grande prova di sé. Adesso arriva un momento, se vogliamo, ancora più complicato. La situazione è certamente in divenire, non sappiamo qual è il punto di caduta, ma bisogna prepararsi e attrezzarsi rispetto a questo. La cooperazione, tra virgolette, lo sta facendo, si sta ponendo delle domande rispetto a degli scenari. La giornata di oggi è voluta anche essere un po' un punto di visione rispetto a questi temi. Cambiamo argomento, lì dico Macchiesi presi d'assalto in questo fine settimana a migliaia di turisti sulla costa del mare, ma c'è anche un altro tipo di turismo, spesso collegato a quello balneare, cioè quello naturalistico. La provincia ferrarese si caratterizza per diverse peculiarità, come i boschi, soprattutto nel cuore del parco del Delta del Po, il più famoso a pochi passi dal mare, il bosco della Mesola, ma c'è un altro bosco poco distante, quello di Santa Giustina, sempre nel Mesolano, ma più a nord, forse meno conosciuto, ma che raccoglie sicuramente tante sfaccettature naturali molto interessanti in queste aree. Poi l'intervento dell'uomo ha lasciato anche tracce, come i bunker nazisti nel boscone della Mesola, o un acquedotto cisterna a Santa Giustina. Allora, vediamo le immagini che faranno parte anche delle prossime puntate di Viaggio nella Biosfera, in onda sempre su Telestense. Sentiamo. Si troviamo nel bosco di Santa Giustina, nella parte più settentrionale del parco Delta del Po, all'interno del comune di Mesola. Il bosco di Santa Giustina, insieme a altre più piccole aree boscate e al grande bosco della Mesola, va a costituire gli ultimi residui del bosco planistiale all'interno della regione Emilia-Romagna. Il bosco della Mesola è senz'altro quello più conosciuto di questa tipologia di boschi, e stiamo parlando di un'estensione di circa mille ettari. Mentre il bosco di Santa Giustina, che se lo guardiamo su una mappa, è come se fosse la naturale propagazione del bosco della Mesola verso nord, verso il Po di Goro, ha un'estensione più ridotta, stiamo parlando di circa 200 ettari. Sono boschi in cui raccolgono una grandissima biodiversità. È presente ancora oggi, è visibile, una cinsterna, che veniva usata fino alla fine degli anni 60 del Novecento, appunto per prelevare l'acqua dal sottosuolo. Era presente un'elica che con il movimento eolico dell'aria riusciva a pompare le acque sotterranee, passando per un filtro naturale di carbone presente nel sottosuolo. veniva pompata fino in superficie e poi distribuita a chi ne aveva bisogno. Questo perché ancora non era presente la rete dell'acquedotto. Bene, con questo è tutto per questa edizione. Vi ricordo, oggi ore 17.30, anteprima mece, poi ci sarà la partita alle 18, Spal Fiorentina, che potrete seguire con Nicola Franceschini e i suoi ospiti, e subito dopo ci sarà il telegiornale con una nuova edizione. E poi per domani sera, vi ricordo, lunedì sport, sempre per commentare questa stagione dei bianco-azzurri. Con questo chiudiamo qui, grazie per l'attenzione e appuntamento alle prossime edizioni del telegiornale. e appuntamento alle prossime edizioni del telegiornale.